guarda non mi ricordo di qua credo non essere mai passato in vita va piano provano a piano che non controlla che può essere anche un dirupo sì ma penso che saremo talmente piano che quello non sia un problema no l'importante è che non ci troviamo a robe troppe difficili allora mi ricordo non so cosa che proviamo nel peggiore delle ipotesi ragazzi chiamate il centro è la museruola qua devi metterla là questo forco qua non so l'usnate è stato un freno un po' bastardo quando si stagano un po' si stagano un po' bastardo si stagano un po' bastardo non so l'usnate vuoi andare a te? vai 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 ti sei messo meglio in me eh immaginavo, torna indietro vabbè l'altro non è che era proprio... vabbè ma dopo comunque... mi pareva di ricordarmi qualcosa vediamo eh dopo si doveva spiegare come mai che va a cacca attacca il culo non arrivo a casa eh se lo vede Andrea lo fa di sicuro però bisogna fare un sopra luogo prima ok 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 ecco 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 ma è se sono riuscito in verzone non è il caso che ho vaga su un po' No, 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 no. 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 Non è giusto di qua, no, c'era un vigneto. No, 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 no. No, c'era un sentiero prima a sinistra. No, no, si passava per l'uliveto. Allora, torniamo a disinuogo su di qua e andiamo a destra. Ma si riallacerà di qua sicuramente. no ma era un bel tratto d'accordo probabilmente la dove c'era il tratto difficile che noi abbiamo scelto il difficile dovevamo tenere la sinistra chi si ricorda però ma io questo non credo di averlo mai visto la sinistra la sinistra la sinistra la sinistra la sinistra ci stiamo perdendo tutti i sentieri ragazzi la sinistra 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 Sì, ragazzi, che brutto. Sì, ragazzi, che brutto. Sì, ragazzi, ragazzi. Sì, ragazzi, ragazzi. No, voi siete andati a destra, in discesa, invece bisognava tenere la sinistra. Ah, all'inizio. C'è il pezzo, quello scassato, molto difficile, in discesa. Invece bisogna andare giù là, bisogna stare a sinistra. Non c'è un'altra giù, adesso. Noi siamo venuti a crisi, siamo tutti qui. Ah, il parchetto. Non so, non so, non so, qua. Non so, non so, non so, non so. Ma, non so, non so. No, non so. No. 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 Non li conosco, cioè possiamo andare a destra, non ho mai fatto questo. Sì, sì, per quello se terminiamo di là poi si fa il giro, non è un problema. Mi raccomando, non tolrar la massa! Ma sono stati i cani che baiano, non so perché... Non perci i sentieri, ti avevo detto mi tieni a destra, non perché sono a sinistra. Sapevo che segnendola a destra andavi giù appena appena, segnevi da sinistra e c'era il centellino con lo baiolo tecnico a spazio. Va bene adesso, pazienza. Devo prendermi a più per il garminciale, baiolo cazzo. Il navigatore? Ah, è bello cazzo. Sì, adesso costano meno, penso. Sono tutti uguali questi sentieri, no? Capisci un cazzo per rompere. Sì. 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 Sì.